che imbarazzo è mai questo un foglio anonimo la cameriera in gabinetto chiusa la padrona confusa un uomo che salta dal balcone in giardino un altro appresso che dice se poi adesso non so cosa pensare potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simile razza e comune a dir ma la contessa anche un dubbio l'offende e la rispetta troppo se stessa e l'onore mio e l'onore dove diami l'apostolo umano errore via fatti come teniesti il frattetto c'è credo saprò se Cherubino è adunto a Siviglia a tale oggetto mandato a Siviglia un cielo e figlia a noi non dir nulla invece tua vuoi andarci a me ne so l'anti sera dovrebbe ritornar Matteo, l'uso, l'insiccita, l'uso, 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 l'uso non so parlato li fo sposar la vecchia eccellina, signor cosa bravate? mi par che siate in collera volete qualche cosa? signor, la vostra sposa ha i suoi tre lavori vi tiene il fiaschetto degli olori prendetle orre del reparto ah no potete ritenerlo per voi perché queste non sono male da donne imperiali un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo pagando Marcellina fai la dote che fai le proteste che io vi promisi quando crede ad averlo inteso sì, se voluto aveste intendermi voi stessa e mi a godere e quelli suoi cilinza e mi a volere crudel perché ti no fai mi ammir così perché crudel fai mi ammir così non sono portato all' amore che può dividirsi tutto il giardino verrai che il progno verrà Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.